E rieccoci qua in questa nuova reaction del fans reaction insieme come sempre al nostro caro Robby Sono tornato E questa sera c'è un album importantissimo e se ne parla Robby L'album è di Marrakesh che dopo due anni da persona, che tra l'altro è stato il singolo più venduto nel 2019 e nel 2020 Rilascia questo nuovo album che si chiama Noi, Loro e Gli Altri Quindi dopo questo grandissimo successo musicale, l'asticella è altissima comunque perché ha rilasciato l'album, possiamo dirlo, senza preannunciare nulla Da mercoledì Esatto, da mercoledì a giovedì notte Pazzesco Rapidissimo e magari diamo un'occhiata proprio alla copertina dell'album Allora questa qui è la prima Sì esatto perché c'è un significato, ho messo quattro foto, ho scritto Noi, Loro e Gli Altri Quindi in questa prima foto c'è noi, diciamo, di ovviamente famosi, ci troviamo la cantante Elodie Elodie E ci troviamo la famiglia con il fratello e i figli del fratello, lui non ha figli, però comunque ci sono anche i genitori E con Elodie che è purtroppo la sua ex fidanzata, vabbè, lasciamo di stare Questa non lo sapevo, quindi nella copertina Nella copertina infatti ha fatto molto scalpore Nella seconda foto, diciamo, Loro è un po' inteso come l'ambito lavorativo, insomma Qua troviamo un po' tutto l'universa, c'è la sua casa discografica Io che riconosco, c'è solo Jacopo Pesce, che è quello con gli occhiali alla sua sinistra, pelato Ah ok Che è comunque un produttore discografico e come la Paola Zuccar che è nella foto iniziale, vabbè Fine, l'ultima foto, diciamo, gli altri, c'è lui che va un po' controcorrente Esatto, controcorrente alla folla, insomma, quindi tutti vanno da una parte, lui guarda verso l'alto e va dall'altra parte Allora, guardiamo la tracklist al volo e ci aspettano 14 pezzi di cui, dicevamo prima, due skit Sì, diciamo due spezzoni, quindi canzoni da 20-30 secondi E poi vediamo anche tre feat annunciati tutti insieme, c'è tutto nello stesso giorno Assurdo Tre feat, vabbè, l'immancabile Guè e poi gli altri due Calcutta e Blanco Blanco, feat inatteso, possiamo dire Fit inatteso, non lo aspettavo No, ispira, ispira Beh, diciamo così, è un po' l'artista del momento, è sempre in tendenza L'artista dell'anno Nella top 50, quindi un bel feat E direi che possiamo non perdere altro tempo e iniziare subito con la prima canzone che è Loro Gran video Però comunque marchia molto il fatto del noi e loro che ormai non c'è più la differenza Che comunque dice anche che faccia fatica avere 15 minuti di privacy Insomma, è incredibile comunque come da un video, anzi da una foto riesca a tirare fuori un video esplicativo Cioè alla fine comunica molto nonostante sia una foto E quindi complimenti, veramente bello Vengono cancellate le facce insomma di loro Tutti, sì esatto Tutti lo po' spiritica Cioè è un po' Ma anche la base sotto era molto Tipo questo coro Molto particolare Prossima Con la copertina sempre di Loro Che Pavarotti Eh, credo ci sia Stringtri Ne parlano tutti Però tu ne abusi Come tipo di facile Mettila tua faccia Perfino nel rap c'è un limite alle minchiate che puoi dire Cazzo L'ho fatto davvero Tu lo stai solo sognando Ora che il livello è più basso Le tue profonde Vi chiudono tutti in una stanza A fare maranza Però c'è un'abbastanza Per fare la nuova stagione di Loll Mamma mia L'ultima frase ho scritto Una citazione su Loll Sono fatto male Sì, sì, sì Eh, insomma Questo è impegnativo Questo è impegnativo Quella citazione a genovese Quella di facile.it Esatto Tosta, tosta Sì, ma poi Cioè Quando parti in freestyle Con i due pezzi Troppo veloce Ad ascoltare così Cioè al primo ascolto E avrebbe proprio un testo da riascoltare Quindi proprio Davvero bello E poi anche il collegamento Con questo canto lirico Andiamo alla prossima Che è Infinite Love Abbiamo il primo Fit Con Fit Gue Che da pochissimo ha annunciato Che non è più Gue Pechegno Visto che ormai è conosciuto da tutti Ora è solo Gue Non c'è più Pechegno È morto 3, 2, 1 Via Oh Cambiata la visual Vediamo se è l'ultima Eh lo dì L'ultima che viene Eh è vero Ah no Cancelato Questo è il pezzo Che mi aspettavo Da Marra In questo album Cioè proprio Questo è il prototipo Di pezzo Che mi aspettavo Rap Sì Misto pop Misto pop Con una base E la madonna Cioè Non so Non è stata copiata È precisa Qualche modifica Secondo me Cioè Niente da dire Cioè ormai Marra e Gue Collaborano insieme Da Da quando c'era Da Brivido Da Seneca Insomma Tutte le canzoni Poi hanno fatto anche un album insieme Ormai Quando c'è Esce l'album di uno C'è l'altro E quando esce l'album di quell'altro C'è C'è l'altro Proprio Niente da dire Su questa canzone 10 l'ode Condivido Bellissimo Andiamo avanti La prossima È Io E c'è stato un loro Ma adesso C'è un io Quindi Ci aspettiamo un pezzo personale Io messa nel visual Di Gli altri La verità non semplifica La verità non si esplicita Se parleremo di brand Mentre c'è chi non ha il brand Io che non sono più Io Io non mi fido di Dio Io Questa mi è piaciuta un sacco Veramente bella Sì Un pezzo Un po' più melodico Riflette molto sul Sul suo Stato d'animo Comunque sul suo Parte interiore Mi è piaciuta un sacco La frase dove Dice Chissà se parleremo ancora Di brand Mentre c'è chi non ha il brand E un sacco di altri riferimenti In realtà che fa All'interno del pezzo Veramente Un pezzo molto riflessivo Questo Fa riflettere La prossima Crazy love C'erano già due love Due love Qua c'è anche l'odd in questo Ho visto un'anteprima Andiamo a vedere Vediamo Vediamo Ah qua c'è già proprio il video Ah questo Fermate No 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 Questo devo fermarla Scusate Scusate Questo qui È Un famosissimo quadro Di Marina Abramovic Meraviglio No Queste cose mi emozionano Perché le ho studiate Praticamente una dipende dall'altra Infine Tutto questo inciso Il grigio delle strade Gli edifici La mia netta Ti togli ti vestiti Mamma La paparaba Lei per me Io per lei So che me me resta Anche con zero un muore Sembra Mahmood Alla fine Com'è Dottimi secondi Ah perché te Ah ok Me l'ho Quasi Ah Ero avanti No è vero Alla fine Quella cosa di Mahmood Oh Pascia Sicuro Ma Si sono lasciate da molto Non è una cosa Secondo me è molto recente Comunque Magari Quest'estate Comunque Pochi mesi Perché allora alla fine Siamo insieme Da quando è riuscito Il pezzo Margarita Che era 2018 E secondo me è comunque recente Vabbè Comunque Bel pezzo Cioè posso dire Sono delle sonorità diverse Dall'ultimi album Che escono adesso Questi sono tutti generi Diversi Sempre alternati C'è sempre una voce sotto Riprende un po' Magari dei suoni Che sono stati un po' Sono andati un po' Persi ultimamente Quindi Vero Quindi andiamo con la prossima Cosplayer Dio ci salvi dall'ipocrisia Dal rumore di fondo Persone Questa è fantastica Questa L'ascolterei All'infinito Sta canzone Non volevo che finisse Cioè proprio È una canzone Che se fosse durata Dieci minuti L'avrei ascoltata Per dire Tutto il tempo Sì C'è anche un richiamo Un po' Magari alle persone Un po' Con l'album vecchio Quindi sì Diciamo C'è un collegamento Lì era un po' Più su di lui Invece questa È un po' Più una canzone Su Su loro Sugli altri Insomma Ci sono molti dissing Molte frasi Molti dissing Molte frasi Ne ho sentito Uno su 4L Può essere A un certo punto Adesso non mi ricordo Anche sui politici Che sicuro Lì in mezzo C'è un dissing aperto Su Fedez Che Si candideranno Che poi alla fine Vabbè Si è saputo Che in realtà Era tutta una Pubblicità Quella di Fedez Però sì Lui comunque Marra aveva già Dissato Fedez Nel 2016 In una canzone Di Santeria Che si chiama Purdi Che consigliatela Ascoltare Gran pezzo E poi Insulta Cioè insulta Critica I politici Sul fatto che Stanno diventando Influencer Mi viene in mente Che so Il senatore Che fa i tiktok Sì Famosissimo Grazie Grazie Davvero interessante Poi anche questa parte finale Quando proprio parla Perché alla fine Non canta Cioè non canta Parla alla fine Poesia 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 pura Mi è piaciuta un sacco Anche la parte In cui fa F word N word Ma il concetto È sempre quello Insomma Comunque Bellissima Andiamo alla prossima Che è Dubbi E anche questo Comunque Da come dice il titolo I dubbi Diciamo Lo pressano tutti È anche proprio Un album Diverso Sì È genere Rap Però È proprio Un mood Diverso Rispetto agli altri Cioè se penso A persona È tutto un altro genere Proprio questo Per ora Sono tutti pezzi belli Però Molto interiori E comunque Molto tranquilli Diciamo C'è un pezzo Molto riflessivi Soprattutto Poi infatti Secondo me Escono molto Le pressioni Che ad esempio Quella lì Della madre Che dice Ah tuo fratello Dei figli bellissimi Quando ti decidi Insomma tutte queste cose Che magari lo assillano Sì che lo Diciamo lo schiacciano Un pochino E gli creano Questi dubbi Calcutta Laura ad onore E sei cresciuta E mandi giù Le illusioni Ti fai ruvida Come il paesaggio Sai che tutti Sono di passaggio Anche se la tua stella Sta così lontano Mare chiaro Di tutti i primi Del mese Sai galleggiare Tu sopra il dolore Io non so farlo A tutti i ragazzi Disastrati Tra le rovine Delle loro famiglie Una laurea d'onore A te Che sei la più forte Soppa Questo forse È il più emozionante Cioè alla fine Proprio Diciamo Lui elenca Un po' di situazioni Che Questa presunta Lei Mi sembra di aver capito Riesce comunque A superare A supportare E a passare Invece lui Dice Come fai Io non ci riesco Insomma Soppa C'è questo confronto Poi si alla fine Appunto Parli questi ragazzi Che sono cresciuti In Disastrati Disastrati Oppure anche Cresciuti bene Ma con famiglie Diciamo Perché poi Bisogna anche Tenere conti Queste situazioni Giusto Famiglie con più problemi Avevo meritato Una laurea d'onore E poi il fit Inaspettato Però Un bel ritornello Sì sì Andiamo alla prossima Andiamo anche con noi C'è stato io Loro Noi E poi rimane gli altri Adesso andiamo con noi No poi ci sarà anche noi Loro gli altri Come schifo Esatto dopo Niente va bene Noi Ma non c'è una musica brutta Vero Non c'è una musica brutta Anche questa è molto calma C'è una seconda voce Sotto Femminile In Bolivia In India Un po' in Cambogia Siamo sempre stati Alla ricerca di qualcosa Broda Tutti i pezzi tosti Qua sì Qua c'è proprio il noi C'è lui La sua infanzia Da quando era piccolo Questo Alessio Che si sente più Questo Alessio Poi c'era questo Nico Poi c'era un altro nome La seconda strofa Questa è proprio una storia Nel senso Ci sono artisti Che fanno rap Raccontando proprio una storia Un percorso Ti immergi nella situazione A Vero Verissimo Proprio a 360 gradi Proprio bellissimo Cioè Trasporta Sì sì Trasporta Nel suo mondo Quello che viveva lui A quell'età Va bene Direi che Anche noi L'abbiamo sentita Direi che possiamo andare avanti Con lo skit E ascoltare anche l'altra Quindi andiamo diretti Facciamo skit Più L'altra che è Gli altri Giorni stupidi Giorni stupidi Ok Noi Gli altri Vogliono quello che abbiamo noi Ma noi che Come tutti gli altri Una confusione Ah no ma che Ma stavo sentendo sotto l'altra canzone Infatti Una confusione Pensavo fosse cambiata La canzone Ah così Due secondi Ah ma non è che forse Potrebbe essere tipo Un'anticipazione Di qualcos'altro Ok Beh è bella Anche questa Sì anche questa Questa sorta di fit Anche qua Però questo proprio Ha anche un bel ritmo Questo proprio È un ritmo Che ti prende Carica Poi non so se vogliamo vedere qualche commento Eh poi anche la La donna Presidente Influencer Non so se Quella è stata una bella Prima donna presidente Per me influencer Mare Giavanti Vediamo se Come ha detto anni fa Se sarà così Se tra qualche anno Ci prenderà Avremo Chiara Ferragni Esatto Presidente Sì proprio questo C'ha proprio quel ritornello Anche un po' Cioè non una cosa di adesso È un ritornello Speciale Particolare Esatto Non è attuale però Esatto Passato Retro Retro E adesso Andiamo Con una canzone Attesissima O almeno da me Attesissima Ovvero Nemesi Fit Blanco Ho buonissimi propositi Speriamo che non siano Troppo alti Vediamo Sentiamo Anzi Però vi chiedo Gentilmente Di iscrivervi a questo canale Sono le reaction Più veloci Di youtube Ogni giorno Alle 8 del mattino Siamo lì Lasciate un'iscrizione Anche perché Il 99% di voi Che guarda questi video Non è scritto E basta Divergente Dipendente Lo sei diventato Lo sei stato sempre Non si odia mai davvero Se non se stessi E il tempo passa E non mi manchi E non ho nascuto più Quello che dici Anche se piange lo grid Come serpenti E sono l'ingagno E uccide Sono giocato Lo rotto Con cui gioca il mio doppio Sono il contrario di te Siamo la differenza Nimesi Bellissimo Questa è Bellissima E questo c'è un ritornello Che posso dire Secondo me È la prossima hit Del momento Del momento Beh il ritornello Fantastico Marra Però posso dire una cosa Prima con Guè Non gli fai dire G.U.E E poi con Blanco Non gli fai dire Blanchito Beve Niente marchi Ormai sono già conosciuti Quindi Peccato però Ci sta sempre all'inizio Sì è vero È vero Quello sì Comunque sbaglio Questo è uno dei primi pezzi Dove c'è Blanco E non è un suo pezzo O sbaglio Sì forse No sai che forse è il primo Eh mi sai che è proprio il primo E No allora Secondo me ha fatto un feat Ha fatto un feat Con l'album di Madame Tutti muoiono Giusto 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 È vero No vabbè Comunque è uno dei primi feat Uno dei primi Andate a vedere la reaction Eh infatti Lasciamo qui il link Per vedere la reaction Di Blanco Di Blu Celeste Gli ultimi due pezzi Dell'album Che sono L'altro skit Che è Dumbo Gets Mud Skit Non so come l'ho pronunciato E poi E poi c'è Glyph Hunger Quindi praticamente L'ultimo pezzo L'ultimo pezzo Pezzemente Questa spinta E si chiude così L'album Noi Loro Gli altri Di Marrakesh Si è ripreso Direi che È pronto Quindi Aveva manifestato Comunque Prima di persona Il suo stato d'animo Comunque Basti pensare Che Santeria È uscito nel 2016 Che era l'album Che aveva fatto con Guè E per tre anni Di cui due Di completi inattività Perché appunto Caduto in depressione Totale Per Una delusione amorosa Appunto Poi Ci sono pezzi di persona C'è Crudeglia Ci sono tanti pezzi Che ne parlano E qua Diciamo Sì Ci si aspettava Un album L'aveva detto Che era un album Più personale E Continuava un po' Il Il Filone di persone Diciamo Persona Veniva nominate Un po' Le parti del corpo Invece qua C'è proprio Il para di lui Il para della sua Vita Della sua infanzia Insomma Proprio una bella Chiusura dell'album In generale Poi comunque Questo è il pezzo Cazzuto Detta come va adesso Il pezzo cazzuto Che ci voleva Lo stavamo aspettando Sì Ci era già ripreso Prima Perché comunque Perché anche prima Dell'album Ha fatto uscire Tutte le canzoni In cui c'era C'era lui Come fit Per cui Il primo Che mi viene in mente È la chiave Con Salmo Aumentano tutti Gli ascolti Reaction La guardate qua sopra Di Salmo Flop Bellissimo Bellissimo album Magari come al solito Possiamo fare una Piccola classifica Magari diciamo La È dura Eh lo so Proviamo a dirne una Magari Alfinite Love Alfinite Love Alfinite Love Ok È proprio quella che È il pezzo perfetto Per me Non lo so Che riascolterai subito Forse Cosplayer Devo dire Mi ha colpito Un sacco Non l'abbiamo detto Ma lo dice lui Alla fine All'inizio L'ultima canza Dice Zef E Marz Sono i due produttori Cioè Marz Li ha prodotto L'intero album Quindi Ed era lo stesso produttore Che Aveva diciamo Era il capo Della produzione Dell'ultimo disco Quindi insomma Già anche uno che Così diciamo Un rapper così famoso Fa lo stesso disco Con lo stesso produttore Vuol dire Comunque c'è Un buon rapporto di fiducia Una buona unione Tra i due Devo dire Produttori Da paura Sì davvero Delle basi Basi Musiche Proprio Strumenti Variegati Va bene Come al solito Vi ringraziamo Per aver visto questa reaction Vi ricordo che trovate Nei commenti In descrizione Anche qua in alto Il link per la playlist Completa Di tutte le nostre reaction Come al solito Vi ringrazio Robby Che è sempre disponibile Vi ricordo di iscrivervi Lasciare un like Commentare Commentare Con il pezzo Che vi è piaciuto di più E basta Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao